Ciao, ciao da Stefano, che sarei poi io, bentrovato sul mio canale, bentrovato in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, camori malati, con narcisti patologici, borderline e psicopatici. Premetto sempre naturalmente di non essere né uno psichiatra né uno psicologo, sono giornalista regolarmente iscritto all'albo, che però, però, è passato purtroppo in alcune relazioni tossiche che mi hanno segnato e a quel punto mi sono fatto una cultura sull'argomento attraverso la lettura di libri scritti da luminari internazionali sull'argomento, sulle relazioni tossiche. Ho guardato molti video in cui parlavano degli psichologi e degli psichiatra con molto competenti sull'argomento, anche italiani naturalmente, e ho partecipato a gruppi e seminari in cui partecipavano vittime di relazioni tossiche, quindi insomma ho sentito diversi racconti. Oggi voglio parlare di uno dei motivi per cui si fa tanto fatica a uscire dalle relazioni tossiche, ossia il senso di colpa della vittima. Allora, quando tu sei all'interno di una relazione tossica, il narcisista patologico, ma anche il borderline, tende a instaurare in te un continuo senso di inadeguatezza. Come fa? Attraverso degli abusi, abusi mentali, che spesso e volentieri sono più forti, sono più potenti degli abusi fisici. Utilizza frasi pungolate, passami il termine, quotidiane, del tipo... Il messaggio che vuole farti passare è sei incapace, senza di me sei nulla, sei una persona priva di ogni qualità, il tuo cervello non lavora bene, sei un fallito o una fallita, dipende. Questi sono i cinque segnali più importanti, diciamo i messaggi che il disturbato mentale, il narcisista patologico, vuole instaurare in te. Perché fa questo? Perché attraverso questi messaggi lui sa, o lei sa, che te prima o poi andrai in tilt mentale, ossia è la goccia cinese, pim, 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 sempre in testa. A un certo punto tu ti crederai veramente inadeguato o inadeguata, veramente stupido, veramente privo di ogni qualità, ma è semplicemente una tattica che questa, tra virgolette, brutta persona, perché si parla comunque di gente che tenta di far del male all'altro, che questo disturbato mentale vuole fare a te. Quindi tu sei in profonda confusione, non sai sinceramente cosa pensare e tra l'altro ti senti profondamente triste e incompreso. A un certo punto cosa succede? Succede che lui ti abbandona. Perché? Ha trovato un'altra vittima migliore di te, oppure perché semplicemente si vuole fare i fatti suoi. Ecco che arriva nella vittima il senso di colpa. Cioè, dopo tutto questo abuso che c'è stato nella relazione, la cosa più straordinaria, in senso negativo, è determinata dal fatto che la vittima ha dei dubbi, ha dei dubbi nel senso che si dice tra sé e sé, ma perché mi ha abbandonato in questa forma così crudele? Perché lo ha fatto? Non sarà mica perché sono davvero stupida? O perché sono davvero sbagliata? Dubbi. Non sarà mica colpa mia? Lui ha fatto così, perché io l'ho portata a far così? No. No. Lo sbagliato è lui o lei, è il disturbato mentale, è il narcisista patologico che ti ha raggirata, privata di tutte le tue buone qualità e poi scartata in una maniera assurda e feroce. Quindi, i dubbi che sono naturali in te, i dubbi determinati dal fatto che avrei potuto fare qualcosa in più, mi sa che ho sbagliato in quella cosa là, ecco perché lui si è allontanato. No, non è vero niente, no, tu non hai fatto nulla di male, o la vittima non ha fatto nulla di male, è lui o è il disturbato mentale che si è comportato male, o la disturbata mentale che si è comportata male, è la narcisista che ha fatto qualcosa di sbagliato, non tu, non la vittima. Però, naturalmente, la vittima è avvelenata, è drogata dalla relazione tossica e non se ne può rendere conto. È per questo che io esorto sempre, ed è importantissimo, al termine della relazione tossica, quando il narcisista o il borderline ti ha scartato, andare immediatamente a fare un'analisi, a iniziare a fare un'analisi, un percorso, insieme a un bravo psicanalista, psicologo, molto esperto in relazioni tossiche. Perché i dubbi che la vittima la lacerano, la distruggono. Perché purtroppo questi dubbi non si tolgono da soli, deve semplicemente riuscire a metabolizzare il fatto che il narcisista patologico l'ha avvelenata. E i dubbi sono frutto di questo veleno. Questo è molto importante, quindi esorto sempre alla fine di una relazione tossica andare da un bravo psicanalista, perché, ripeto, questi dubbi, se no, fanno fatica ad andare via da soli. Ci vanno, ma in un tempo molto lungo. E i dubbi ti fanno rimanere ancorato o ancorata ancora al narcisista patologico. E lui ci gode. E lui sa, per questi dubbi che ti ha instaurato, che può tornare quando vuole. Questa è la situazione. Bene, spero che il video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, clicca i like. Se conosci qualche persona a cui può piacere questo video, condividilo. Clicca la campanellina per seguire i miei aggiornamenti che spesso e volentieri riguarderanno relazioni tossiche e amori malati, ma riguarderanno anche il pensiero positivo. Farò recensione a libri scritti da luminari su argomenti legati a come bisogna interpretare in modo corretto la vita. E ciao da Stefano, che sarei poi io. Ciao.